Quest'anno nel liceo artistico di Cagliari stiamo allestando una bellissima mostra. Ci sono vari dipinti, lavori di grafica. In questa sala ci sono più lavori pittorici e grafici, mentre nell'altra più lavori architettonici e scultori. Ci spostiamo. Ci spostiamo per farvi vedere i lavori scultori. Mi piace scolpite da noi alunni. Ce ne sono varie. Troviamo dei lavori di grafica, dei selfie sotto vetro. Tutta questa mostra è stata fatta con i lavori fatti interamente dagli alunni. Vari classi e vari corsi. Questa mostra è molto bella, vi invitiamo tutti a vederla sabato 7. Simplificando slogan, amplificando polo, pensa e fai a hit.